Quindi diciamo che per parlare dell'euro bisogna prima parlare della lira e successivamente parlare del bitcoin. La lira nasce nel 1484 a Milano ed era la lira carolingia. Successivamente nel 1661 quando si unificò l'Italia, si creò lo Stato italiano, si rese necessaria una moneta che valesse per tutti gli stati che a questo punto erano concentrati nello Stato italiano e nacque la lira italiana. 1661.